E qui abbiamo sentito parlare della lingua ovviamente, proprio in base dell'identità culturale, sappiamo benissimo che la lingua è anche potere però, è la vicenda del friliquismo dei concorsi, quindi la vicenda delle cause, della sentenza che voi conoscete mostra quest'altra faccia che non è meno importante del problema della lingua come strumento, perché nella Unione Europea da 2007 circa, senza nessuna delibera, senza nessuna decisione formale di nessuno, si è imposto sostanzialmente questo regime riliquistico nella comunicazione. Sai di veri, come diceva prima il professor Arcangeli, più banali, io alzo il telefono, abbiamo il centenario dell'Unione Europea e il disco che mi mette in attesa va per l'inglese, il francese e il tedesco, non ci sono tanti, a tutti i datteri che trovo, che mi indicano dove devo andare, quando mi dicono l'Unione Europea, l'inglese e il tedesco, sì, ma è una cosa molto più seria come per i concorsi per l'ammissione. Dal 2007 si è abbandonata la giusta distinzione tra le prove di competenza linguistica e le prove di competenza professionale separate, come è sempre stato. Si sono abolite le prove di competenza linguistica, sono rimaste soltanto le prove di competenza professionale e si è previsto che queste prove devono tornarsi. se la scienza si fa per dire del candidato, la giusta è l'inglese per accedere il tedesco. Questo significa, ovviamente, imporre il prelinguismo nel lavoro dell'Unione Europea e quindi imporre ovviamente gli interessi dei paesi che si esprimono in questa esperienza. Ripeto, tutto questo non è tanto il dato in sé, ma il modo come a questo dato sia pervenuto il senso, nessuna decisione è portata, perché c'è sempre un regolamento che è il primo regolamento adottato dall'Unione Europea al suo nascere, il regolamento numero 1 del numero 1858, che stabilisce che tutte le decisioni sul regime linguistico dell'Unione Europea devono essere adottate con regolamento del Consiglio all'Unalità. Ora, anche dopo il trattato più buono, la regola dell'Unalità è in materia di un'inglese che è rimasta. E quindi si è aggirata di fatto questa regola in producendo il senso, nessuna misura formale, perché un'unità si sapeva che non si sarebbe mai assoluta. Questo è il primo stato. E noi stiamo cercando di contestarlo. L'importante è la sentenza, soprattutto per un punto, perché la difesa, diciamo, della Commissione, che è il braccio armato, perché hanno presenti interessi che stanno dietro il triliuismo, era, ma non c'entra neanche i cittadini europei il diritto fondamentale ad un triliuismo riconosciuto dalla ragata dei diritti europea che da lo stesso trattato dell'Unione Europea. Qui si parla di assumere il personale per lavorare in uffici, quindi è un problema interno, un problema amministrativo, organizzativo. Un bando di concorso è qualcosa che si rivolge a tutti i cittadini europei, perché è una modalità di esercizio, un proprio diritto fondamentale, qual è il diritto al lavoro e il diritto al lavoro delle istituzioni pubbliche dell'Unione Europea, quindi anche il diritto alla partecipazione, quindi il diritto democratico, fondamentale, al funzionamento delle istituzioni europee. Se vogliamo una cittadinanza europea, possiamo essere inclusivi tutti gli europei che devono poter potenzialmente entrare a lavorare all'Unione Europea. Questo non è solo un lavoro, in senso brutalmente economico, questo è innanzitutto proprio partecipazione democratica, quindi fondazione reale dell'Unione Europea veramente dei cittadini e non degli stati o dell'Europa. Quindi, come vi avevo detto, questa è una delle forme più dedicata alla comunicazione, quindi se c'è una comunicazione che deve avvenire in tutte le vite è questa, e su questo la sentenza è stata molto chiara. E è stata molto chiara anche sulla conseguenza. Ha detto, in questo modo, la selezione linguistica viene ad essere determinante della selezione professionale. Non saranno selezionati i migliori, saranno selezionati quelli che parlano meglio in inglese e francese in tedesco, quindi avremo dei perfetti cretini che fanno delle creminate immensa, però parlando un meraviglioso inglese e francese in tedesco, che non avremo la possibilità di apparirci di competenze validissime che però sostituivano gli altri. Il problema, ovviamente, della comunicazione cooperativa all'interno che è difficile dell'Unione Europea che viste, il problema è legato, non siamo mai partiti dall'applicazione di questo problema, è un problema che si deve risolvere con altri sistemi che sono, come no che a tutti, non certo con una barriera linguistica all'ingresso. la cosa significativa, però, di cui vi vorrei rinforzare, perché appunto è una notizia che forse ancora non è circolata e qui concludo perché non posso abusare il tempo, già lo sono passato tutti e il tempo è anche scappato, è che la Commissione Europea, dopo aver incassato una nuova tendenza, non è andata minimamente ben intensa, perché nella cazzetta ufficiale del 20 dicembre e poi in una successiva, sono colparsi dei nuovi bambini di concorso, in cui il primo è stato perfettamente confermato, questa volta allungendo la motivazione, perché la Commissione Europea, tra cui dalla nuova, interpreta la sentenza, semplicemente dopo la sentenza è anche censurato il difetto di motivazione della scelta limitata alle prelingue delle prove professionali, da dove, come avete visto, in genere la sentenza che non c'era tutta una critica appunto alla base istituzionale, che è totalmente manchevole di motivazione dell'app, amministrativo, bando... Hanno aggiunto una motivazione scritta addirittura in eretto, c'è per esempio questa vocale è dato di evidenziarla scrivendo l'interetto nel bando per far vedere, è una motivazione che adesso c'è, la motivazione dice che bisogna parlare inglese, francese e tedesco perché queste sono le lingue più usate all'interno degli uffici e quindi siccome abbiamo un'esigenza operativa di avere il personale subito, in grado di lavorare, deve essere personale che parla solo invece un recente educativo perché se deve passare a presa un training che si usa volutamente più una parola in inglese a questo punto per mostrare che non abbiamo conclusioni linguistico e allora si perde tempo, questi non possono subito diventare operativi e questa sarebbe la possibilità, secondo me, che è il primo, questo è il passo di questi giorni. Allora, stiamo preparando i nuovi ricorsi e continuiamo a iniziare perché questa volta veramente la roba è peggio del fumo. La cosa importante è che il prodotto è questo comportamento in eredio offensivo che ha assunto la condizione, quasi proprio direbbero un'imiteria perché ci ringrava il conto e il discorso, il disprezzo della roba, perché la roba è tutta una sentenza che più chiara non potrebbe essere questo di prendo in giro con la mutilazione in eredito che dice quello che vi ho appena detto. Stiamo associando all'azione iniziale dei nuovi ricorsi che partono adesso con un'azione anche politica. Il nostro ambasciatore presso l'Unione Europea è già lottato con gli uffici della Commissione che è stati lottrando nessuna protesta, perché di nuovo anche questo fatto è avvenuto senza nessuna preparazione, un po' il giorno sono ragazzetta ufficiale, senza che prima ci fosse stata la risultazione degli stati, nessuna trasparenza, solo una vieta è uscita questo appartamento con la mutilazione in eredito. E quindi stiamo protestando, stiamo a preannunciare che faremo questi ricorsi, ma vogliamo anche associare questa volta un'azione veramente potenziale, un'azione di tipo politico, speriamo che se lo stiamo preparando il terreno per il nuovo governo, qualunque colore esso sia, non crediamo che non possa rimanere insensibile e quindi cercheremo di porre proprio a livello di Consiglio Europeo, a livello politico, finalmente questa tematica del trilinguismo del valore presso le istituzioni europee, che ci sembra fondamentale, quindi forse questa sarà l'occasione di uscire anche dal canale giudiziale, perché poi il canale giudiziale è importante perché da parte principi, le grandi sentenze, tutto quello che volete, ma poi come vedete alla fine il boccino è sempre in mano alla Commissione e quindi avuta l'atto concretamente, diciamo, più efficace che è quello della Commissione, infatti faremo a nullare questi tanti, cercheremo questa volta anche di farlo sostendere, stiamo studiando delle misure urgenti proprio per dare fastidio, eccetera, però la via giudiziaria alla fine ha dei limiti, come sempre la via giudiziaria è finalmente una presa di coscienza politica da parte italiana, soprattutto abbiamo in passato anche l'appoggio di altri stati, soprattutto la Spagna si è molto interessata dopo la sentenza a questa vicenda, credo che anche la Spagna questa volta sarà il ricorso che si è anche con noi e quindi questo forse ci incoraggia a pensare ad un'azione proprio, ripeto, di tipo politico che una volta che da noi pure la situazione politica diventa in qualche modo chiarita, possa finalmente iniziare, perché certamente non saremo più vecchi, quindi in questo modo non possiamo veramente più andare avanti. C'è stato un passo avanti notevole con quella sentenza, però appunto abbiamo vinto una battaglia avanti la guerra, come vedete è ancora lunga, perché gli interessi che stanno dietro il linguismo adesso non li dobbiamo raccontare, qui sono evidenti che sono pesantissimi, che sarà tutta una pagina ancora ampiamente da scrivere, perché magari in un anno dovremmo anche vedere in qualche altra occasione dei raggiornamenti successivi, perché è tutta una storia che sta qui che va avanti avanti ad episodio, adesso c'è questo ruolo, episodio della mobilazione del peretto e di una qualche presa di coscienza politica, la mia volta che il nostro ambasciatore ha una protesta ufficiale presso la commissione su questo argomento, se sono rosa e fiamminate. Grazie, il discurso, per la preda, per questo punto sconvolgere un po' il panizzetto e quindi opererei così grande, concluderei la parte con Damiane Mazzacani, che dovrebbe esserci, eccolo qui, il besorno e l'universia, poi l'internet di Federico Piglia, che vedo alla mia sinistra domanda, e così ci siamo, Genzini è già parlato, dopo dare la parola a Nicolò da Settimo, dopo a Maria Agostina che ha vinto, e così la parte di sequenza documentalistica la mantiamo in fondo in modo tale che eventualmente si può approfittare per la sequenza di questa era una pausa e questo già può fare, quindi è esatto. Veniamo. 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 Lorenzo CAR yah. welcome, donate, vi dal resto della lug cama. in un certo caso dove dico la mia ma nel mio piccolo, però vorrei cercare di essere incisivo perché credo che sia interessante in questo punto quello che posso dire. Io, in quanto avevo davvero giovane, in quanto ragazzo della strada, vi porto uno spaccato di quello che è l'atteggiamento dei ragazzi della mia età verso la questione linguistica. Ragazzi che si suppone comunque abbiano una certa coscienza, quantomeno perché esco qui. Allora, il professor Arcadio giustamente prima ha detto che non è l'uso di un singolo termine in inglese, più o meno, che può fare la differenza. Il fatto è la massa complessiva dei termini inglesi che stiamo usando e soprattutto da dove arriva questa. Qual è la posizione del parlante in questa situazione? Qui finora si è parlato di una sostituzione secca, diretta, dell'inglese all'italiano. C'è però anche un altro tipo di colonialismo, erosione linguistica, come la vogliamo chiamare, che è l'uso progressivo e crescente di termini inglesi nella lingua italiana, ma non fine a se stesso, ma l'uso di termini inglesi che hanno un portato percepito come di innovazione, un portato di contenuto superiore all'italiano. La control rule di cui parlava il professor Arcadio non è percepita come una banale, detto giustamente portineria, perché l'italiano è percepito come banale, l'inglese è il futuro, ma voglio dire che l'italiano stiamo salvando se salviamo un italiano che non è più in grado di generare in misura consistente controllo di nome. Se le uniche parole nuove che otteniamo sono bambolcioni, sono parole che vanno bene per la cronaca rosa, per i pegolezzi, non voglio dire tossi, ma non abbiamo un italiano decisivo, potente, tecnico, un italiano che si sappia affermare come lingua, come stanno provando, con tutte le difficoltà del caso, a fare lingue come il francese, con lo spagnolo. Io sono un ex Erasmus, sono stato in Spagna e l'ho visto come io, pur per me soggettività. Per farlo breve, i giovani, mi permetto di affermare, tendono a dividersi in questo campo in angoli entusiasti e angoli escusi. L'uso del inglese loro, questo è il nome che dobbiamo utilizzare a questo tipo di infiltrazione dell'inglese dell'italiano, crea una discriminazione, una discriminazione ed è un attentato in un certo senso alla democrazia linguistica, perché lo stesso caso di locatario, locatario, locatore, si poteva verificare con Spending Review. Si crea una sorta di differenziazione tra chi queste parole, questi investimenti, li può capire e chi no. E chi non li può capire rimane escluso e non solo rimane escluso, ma dice, accidenti, sono rimasto escluso, sono indietro, allora via a inserirmi anch'io, forse in inglese, mi parlo in inglese, nuovi concerti di età, non solo in inglese. L'italiano è orientato al passato, come sto detto qui. Cioè, non è vero che questa è solo la domanda del resto, ma non sottovalutiamo che questo concorre a creare un'immagine dell'italiano come limitato, come perdente o comunque nella migliore delle ipotesi da parte sulla spalla, scusate l'espressione da parlare. Allora, io sono neolaureato nell'economia pubblica, non mi permetto di sconfinare la linguistica, non mi permetto di sconfinare la politica, semplicemente perché devo imparare, per non imparare. Detto questo, muovendomi nel mio ambito aspetto di politica pubblica, io vi passo per esempio una cosa. Abbiamo mai considerato quale strumento di politica linguistica può essere il settore pubblico? Avete mai considerato qual è il potenziale comunicativo della macchina dello Stato? Io vi definisco macchina dello Stato, diciamo questo convegno, perché vi capiate come complesso di tutte le strutture e attività anche affidato da qualsiasi situazione pubblica, non tutti diretti. Quindi vi parlo delle reti di interno delle televisive, parlo di, diciamo, degli apparati burocratici, parlo di una serie di enti che non sto neanche qui a legare. Però per farla breve, questi enti hanno un impatto comunicativo da non integrante sulla lingua italiana, che sono in grado anche di influenzarne l'utilizzo. E uno dice, ma perché? Perché lo dobbiamo fare? Bisogna lasciare la lingua libera. Ora io vi dico, che in questa situazione della lingua non è libera. Se lo Stato non interviene, lascia una situazione sbilanzata, nella quale i media, privati, i pubblicitari, decidono in parte le sorti della lingua. Perché non mi si venga a dire che quando io sento un termine inglese che non conosco, ma che viene ripetuto, bombardato nessuno di tre parti, fiori, fiorellini, fulmini, modernità, io alla fine lo acquisisco. Ora io non voglio dire che non abbiamo capito sulle singole parole, però consideriamo il fatto che il, dico così perché l'ho detto, non è necessariamente solo un, come dire, un male. È normale. Le persone tendono a parlare cercando termini da canale ufficiali, cercando termini che diano prestigio al discorso perché vengono detti dai limiti di prestigio. Ora, usiamo il canale pubblico, usiamo la macchina pubblica, attribuendo poteri di normazione linguistica, a un ente centrale. E non sto parlando di cose fuori dalla democrazia. La stessa cosa avviene in Spagna e in Francia. E non mi dilungo oltre perché chiunque può fare ricerche su questo. Io dico solo questo. Non vergogniamoci di togliere la maschera e dire sì, lo Stato si impegna anche sul fronte linguistico, sì, lo Stato fa proposte, sì, lo Stato agisce per tutelare ma anche per promuovere e sviluppare l'alimentario. Non sottovalutiamo la potenza di questo momento. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie.